Una totale ottusità. Quale valore spirituale ha l'India? Commento. L'India, che è uno dei paesi spiritualmente più evoluti, chiama da sempre maia, cioè illusione, quello che gli occidentali chiamano realtà. I maestri immateriali confermano questo concetto attribuendo ai sensi fisici una totale ottusità rispetto alla realtà. Aggiungono però che nel nostro stadio evolutivo solo l'illusione ci evolve.